Ho sentito addirittura l'Inter cambia logo, io mi sto disinnamorando, perché l'Inter cambia logo. Cioè qua siamo alla follia, siamo alla devastazione. Cosa ne penso io di tutto ciò? Cosa ne pensa Neschio? Non è che interessa a qualcuno però, ve lo dico lo stesso. Prima però vi invito a scaricare l'app OneFootball, lì non trovate più quello che penso. Lì trovate più che altro notizie legate al mondo del calcio mercato, news di ogni genere, Marione che prende la 9, che ne so. Trovate di tutto e di più su quello che è il mondo appunto del calcio, di quella palla sferica. Il link è in descrizione, l'app è gratuita e stai lì aggiornato sul pezzo se te la metti poi in saccoccia nello smartphone, quello dipenderà più che altro da te. L'Inter cambia logo. Allora, io sono il primo, ho sempre detto, io sono un sentimentale, io sono un romantico, io sono anche un po' vinto, sono anche old school, sono tutte e non sono niente. Sono uno di quelli che non cambierebbe nemmeno la maglia, di un anno in anno, io giocherei sempre con la stessa, no? Ho scelto un tipo, un modello bello che ci piace, io giocherei 365 giorni l'anno con la stessa maglia. Non la stessa nel senso sporca, no? Nuove maglie, nuove stampe, ma sempre lo stesso tema. Sì, ma avevate capito, forse avevo confuso più che altro lì. Io giocherei sempre con la stessa maglia. Noi abbiamo nel cuore l'anno del tripletro, quella maglia là, giocherei sempre con quella, sempre. Poi però si perderebbe magari il fascino, si perderebbe il fascino, si perderebbero soprattutto ricavi, ho sbaglio. Ci sarebbero meno entrate, perché se la maglia è la stessa, compri la stessa e via. E qui viene il discorso legato anche al marketing. Ragazzi, ci sono, ci sono persone che fanno questo per lavoro, cercano di fare l'interesse per l'Inter. Se vogliono cambiare il logo, non lo fanno perché vogliono affossare l'Inter. No, vogliono in qualche modo collocarla meglio sul mercato. E cambiare il logo, passare da un logo bellissimo, cioè il logo che abbiamo sarà sempre, ribadisco l'amore, a un logo che ad oggi ci sembra brutto. Cioè, lo vedi qua, lo vedi, lo vedi il nuovo logo, sono d'accordo. La prima reazione, sono d'accordo, sembra una roba, non che sembra, è una roba minimalista, proprio sintetica. Ma lo si cambia proprio per questo motivo, perché una lignetta Inter e la M di Milano è facilmente collocabile all'interno del nostro cervelletto. Vi faccio un esempio pratico. Apple, cosa ti è venuto in mente? Cosa ti è venuto in mente? Ma adesso che ti ho detto? Cosa ti è venuto in mente? Trasciando poi che magari conosci il significato stesso della parola. Ma cosa ti è venuto in mente? La mela morsicata. Ecco, un logo semplice, minimalista, sintetico e che arriva subito. Ecco perché l'Inter vuole cambiare logo. Perché con questo, con questo diciamo, che ancora non ho capito, che sembra la maschera dei legionari, o che, mi sembra la maschera che portava il gladiatore, praticamente. Mi sembra anche a voi quella, mi dà quell'idea, mi viene in mente il gladiatore. Non lo so perché. È facilmente collocabile. Quindi, quando si nominerà l'Inter, la gente verrà in mente questo IM. E questo è... Poi, capisco che molti tifosi siano impazziti. Perché? Perché, come al solito, c'è il terrorismo mediatico. C'è il terrorismo... C'è il terrorismo... No, non bisogna minimizzare. C'è il terrorismo mediatico. Perché si è passato da logo al cambiamo tutto. Cioè, cambia tutto. Il nome diventa... Cioè, invece no. Cambia il logo. Non cambia né ragione sociale. Cambia il logo. Pare a marzo. Pare a marzo. E questo è... Poi, aggiungiamoci che veniamo in un momento difficile, dove si parla anche di cambio di proprietà. E quindi, in questo momento, il tifoso interista è anche più suscettibile, sicuramente. Perché passare da una famiglia, quella dei Zang, comunque, a magari un fondo... Come ha detto lo stesso Moratti, che gli dicono, ma perché non te la riprendi? Eh, come si fa a riprendere l'Inter? Non è più semplice come una volta. E come ha detto Moratti, meglio una famiglia che un fondo. Sì, voi direte, sì, ma la famiglia, sai, gli Zang non sono interi... Però, che ne sai, no? C'è Zang, comunque, stai nell'ambiente, ti... Zang poi è un essere umano come noi, ragazzi, no? Magari si innamora dell'Inter, non ci vuole nulla, perché poi noi siamo facilmente innamorabili, se vuol dire così. E magari si affeziona alla sua creazione. No, 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 creazione, ma alla sua proprietà, diciamo, al suo giocattolino, proprio per farla breve. Un fondo, invece, un fondo acquista per rivendere, punto. È lì, invece, quando è una famiglia, ci può essere la possibilità che continui negli anni. Ma un fondo acquista per cedere. In matematica, non è che c'è un'altra possibilità, no? Ma sai, no, il fondo acquista per cedere. Quindi, sappiamo già che nel momento in cui finiremo nelle mani di questo fondo, prima o poi verremo nuovamente ceduti. Speriamo, magari, a Zang, nuovamente, che rimane con una parte delle quote. Ecco, se proprio vogliamo. Vedremo, ovviamente vedremo, vedremo quello che accadrà. Io voglio sapere la vostra, su sta situazione legata al logo e a quant'altro. Me la dite, mi fate un po' sapere, gentilmente. Sono un po' alido. Dai, ditemela vostra su, sul logo. Un grande abbraccio, Daneschi.